Turismo a Pesaro registrato un calo di affluenze Taglio del nastro per la rotatoria sulle siligate Omicidio panzieri verranno ascoltati i genitori del killer A Cartoceto il centro storico si rifà il look Baia Flaminia il rilascio in mare della tartaruga Giunone Una buona serata care amiche e amici di Rossini TV Per questa nuova edizione del Rossini News telegiornale di mercoledì di 2 di agosto Che apriamo con il focus sull'affluenza del turismo a Pesaro Con due visioni completamente differenti tra il presidente di Federalberghi Fabrizio Liva E il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Un turismo che stenta e in netta controtendenza rispetto alle stati passate Fabrizio Liva, presidente di Federalberghi, fotografa in questo modo la Pesaro turistica versione estiva 2023 Alle parole del prossimo candidato alle amministrative Che ha rimarcato il calo di affluenze del 30% per giugno e del 20% per il mese di luglio In occasione dell'inaugurazione della rotatoria sulle siligate È seguito l'intervento del sindaco Ricci che pare avere una prospettiva completamente differente C'è tantissima gente in giro, negli eventi, al mare, in centro, a Baia e Flaminia Anche in giro per la provincia Quindi mi sembra un'estate molto buona E del resto basta provare a telefonare a qualche hotel o a qualche bed and breakfast Difficilmente si riesce a trovare una camera libera Quindi siamo soddisfatti Poi ovviamente i conti si faranno alla fine Ma credo che sarà complessivamente un'ottima estate Insomma due visioni opposte che hanno fatto storcere nuovamente il naso al presidente di Federalberghi Che tiene a sottolineare come i dati da lui annunciati sul calo del turismo in città Siano stati rilevati da una società incaricata dallo stesso comune di Pesaro Gli imprenditori invece guardano la concretezza Effettivamente voglio dire c'è stato un calo di presenza nella nostra città Ma non solo c'è una ricaduta anche su tutte le attività collaterali Quindi gelaterie, ristoranti e tutte le cose che si riconducono al turismo La causa sicuramente è la crisi economica Perché effettivamente bisogna parlare di crisi economica Oggi una famiglia mediamente se è un mutuo si trova a pagare con un piccolo mutuo 4-500 euro in più Quindi si trova a preventivare una spesa di 5-6 mila euro in più nell'anno Prudenzialmente in attesa che i tempi migliorano Molto probabilmente quel target di famiglie medie che veniva da noi in vacanza Rinuncia alla vacanza Previsioni invece per il mese di agosto? Guardi per il primo anno siamo al 2 di agosto Molti alberghi hanno il tutto esaurito così non è Per il primo anno c'è una forte preoccupazione anche per il mese di agosto E quindi direi che anche da parte della politica vanno fatte analisi molto più concrete Il turismo sarà il piatto caldo nell'anno 2024 Quando Pesaro sarà capitale italiana della cultura Appuntamento al quale gli alberghi cittadini si presentano con un'offerta rinnovata La stragrande maggioranza degli alberghi al di là della struttura esterna hanno rinnovato Hanno fatto dei lavori di miglioramento quindi molti sono pronti per accogliere i turisti anche in una nuova veste Altri faranno altri investimenti nel corso dell'inverno per poter fare una bella stagione con le strutture anche a posto L'accoglienza voglio dire noi albergatori anche come associazione siamo a piena disposizione per poter fare iniziativa Siamo il comune per far sì che il 2024 sia l'anno della svolta per il turismo E come avete potuto intendere il sindaco di Pesaro era presente anche al taglio del nastro di un'importante opera stradale La rotatoria sulle silicate all'incrocio con Fiorenzuola rappresenta un passo in avanti verso una maggiore sicurezza su quel tratto di strada Se la sicurezza stradale è da sempre argomento delicato su cui si è dibattuto su modi e interventi La rotatoria inaugurata ieri sulle silicate all'incrocio con Fiorenzuola verte proprio in questa direzione Un'operazione attesa da 20 anni, teatro in questo lungo tempo di numerosi incidenti spesso anche mortali Dopo aver posizionato anni fa l'autovelox permanente lungo la statale La velocità dei mezzi sarà ancora più regolamentata e resa sicura grazie al rondò dedicato al regista Fellini In quanto lungo quel tratto di strada ci fu l'ispirazione per la famosa scena di Alberto Sordi nel film I vitelloni Taglio del nastro avvenuto ieri pomeriggio accolto dalla benedizione di Don Daniele Sfociato poi in un applauso convinto dei presenti per l'opera realizzata da Anas con il coinvolgimento del comune di Pesaro Le silicate sono una strada di grande traffico anche alla notte nel periodo estivo Purtroppo è stata sede di diversi incidenti anche mortali in alcuni casi Quindi da anni ci si batte per metterla in sicurezza E questa rotatoria è un'opera fondamentale perché di ingresso a Fiorenzuola Di ingresso al centro abitato di Silicate Siamo molto contenti, sono anni che ci lavoriamo E va ringraziata Anas che finalmente ha accolto la nostra richiesta Ha un intervento importante, da 800 mila euro Il comune non solo ha spinto ma ha fatto gli espropri Ha permesso che, ha fatto la variante urbanistica Ha permesso che questa opera si potesse realizzare Ed è una delle tante opere che stiamo facendo a nord di Pesaro Perché abbiamo fatto le rotatorie di Colombarone Adesso stiamo realizzando la pista ciclabile Quindi è una zona nella quale stiamo investendo molto In viabilità e in particolar modo in sicurezza Un intervento mirato alla sicurezza Ma secondo il consigliere regionale Biancani lasciato in completo Nel progetto iniziale sarebbero stati previsti anche due attraversamenti pedonali Nei pressi della nuova rotatoria Ma al momento non sono presenti Mancato intervento che limita di fatto gli spostamenti degli abitanti Da una parte all'altra della strada Alla base di questo intervento Oltre al poter ridurre quella che è la velocità delle auto C'era la possibilità di realizzare anche degli attraversamenti pedonali Ricordo in due tempi Vuol dire che questo attraversamento pedonale Era previsto in corrispondenza della rotatoria Ed era considerato un attraversamento di sicurezza Oggi questa infrastruttura è terminata E questo attraversamento non c'è Io ritengo che invece debba essere fatto Perché oggi chi abita in un lato del paese Non riesce e non può Perché non c'è la possibilità Non ci sono i stessi pedonali di andare dall'altra parte I servizi sono solo in una parte di questo bordo In questo paese E quindi chi abita dall'altra parte Non potrebbe mai raggiungere a piedi Quello che è un bar, un tabacchio e quant'altro Ma soprattutto siamo riusciti a realizzare due fermate Due slarghi per le due fermate dell'autobus Anche in questo caso Un residente una volta che scende dall'autobus Se deve attraversare la strada Non c'è la possibilità di attraversarla Quindi un intervento sicuramente importante Ma invito ANAS a sistemare quanto prima A prevedere anche questo attraversamento pedonale Perché era anche questo uno dei motivi Per cui quest'opera era stata prevista Per aumentare e migliorare la sicurezza di quest'area E torniamo a far luce sull'omicidio di Pierpaolo Panzieri Che lo scorso 20 febbraio ha sconvolto la comunità pesarese Il GIP di Pesaro prima di consegnare la perizia Sulle condizioni mentali dell'assassino Michael Alessandrini Vuole ascoltare anche i genitori del killer I due titolari dell'hotel San Marco Saranno sentiti il 7 agosto Per parlare dei rapporti con il loro figlio Aspetto tenuto in considerazione dai periti Per decretare lo stato mentale del trentenne Il ritardo della perizia Inizialmente prevista per giugno e poi per luglio Potrebbe far slittare anche il processo per Alessandrini Previsto per l'8 di settembre Ed è stato ritrovato in Umbria Privo di documenti Un ragazzo ospite di una comunità di Pesaro Gli agenti di polizia due giorni fa Hanno notato uno strano atteggiamento Da parte di un giovane a ridosso del centro di Foligno Il ragazzo, un minorenne straniero Era ricercato per essersi allontanato Da una comunità di Pesaro nei giorni precedenti Una volta intercettato Il giovane è stato accompagnato presso gli uffici Del commissariato di polizia Dopodiché gli agenti lo hanno guidato Verso una struttura di accoglienza del Folignate Che si era detta disponibile All'ospitare il minore E ancora cronaca con le gravi condizioni In cui versa il settantenne Colto da un malore Nella mattinata del primo di agosto Quando si trovava a Marotta Di Mondolfo in sella alla sua bicicletta Alcuni passanti Vedendo l'uomo riversato a terra Hanno subito contattato i soccorsi Che sono intervenuti con l'eliambulanza Trasportandolo al Nosocomio di Ancona Dove si trova ora in osservazione Ed ora ci spostiamo a Cartoceto Dove il sindaco Enrico Rossi Ha fatto il punto Per quanto riguarda la situazione Dei lavori pubblici Che coinvolgono il centro storico Interventi fondamentali Imprescindibili Per il centro storico di Cartoceto Non soltanto per la sua messa in sicurezza E quindi per la tutela dei residenti Ma ovviamente anche per tutto quello che Invece questo rifletterà In termini di sviluppo socio-economico Un problema annoso Che caratterizza il capoluogo di Cartoceto Da lontano 2012 e 2013 Che rispettivamente hanno visto il crollo Di un tratto della cinta muraria Di via Cavour e di piazza Marconi Piazza Marconi che abbiamo di recente terminato E invece qua in piazza Garibaldi Ci accingiamo ad avviare L'importantissimo cantiere per 810.000 euro Appunto di messa in sicurezza di questo tratto Che riguarda via Cavour Per una parte Questo significherà una demolizione Una ricostruzione del muro E per un'altra invece Un intervento di restauro conservativo E di cucci-scucci invece Di quello che è il resto del tratto Fino a Palazzo del Popolo Il terzo intervento Non meno importante invece Riguarderà via delle Mura Per 430.000 euro E qui invece si tratterà di un vero e proprio intervento Di messa in sicurezza Di tutta quella che è la parte Diciamo che sta al di sotto Di piazza Garibaldi Di via delle Mura E per altri invece Per il secondo tratto di via delle Mura Parliamo invece di un intervento Di copertura E quindi anche lì di riqualificazione E di restauro conservativo Di un precedente intervento Che era già stato eseguito Il borgo storico di Cartoceto Finiti questi tre interventi Da parte dell'amministrazione Che hanno visto un impegno Direi molto molto importante Ma al tempo stesso Concreto in questi anni Perché il bilancio È all'incirca di 3 milioni e mezzo Di euro Spesi in interventi Di messa in sicurezza Di riduzione del rischio Idrogeologico Vedono mancare soltanto L'ultimo tratto finale Di via delle Mura Che invece sarà un prossimo intervento Su cui dovremo mettere Ulteriormente mano E poi dobbiamo dire davvero Che speriamo Diciamo gli scongiuri Insomma Che gli interventi Di messa in sicurezza All'interno del centro storico Saranno finalmente terminati In quella montare totale Di cui parlavo prima C'è anche un recente finanziamento Da parte del Ministero dell'Interno Che riguarda la realizzazione La riqualificazione Di sottoservizi In via Marcolini All'intersezione con via Mazzini Che consentirà Una miglior regimentazione Delle acque meteoriche E quindi questo Sicuramente ridurrà Il rischio Di allagamento Che invece purtroppo Abbiamo visto Nell'agosto del 2021 Quindi questo è sicuramente Un altro intervento Molto molto atteso Dalla comunità Dalla cittadinanza Del centro storico E che sono sicuro Saprà mettere in sicurezza A risolvere un altro problema Ripeto che purtroppo Nel recente passato Ha visto protagonista Il centro storico E proseguono i lavori Al nuovo teatro Giovanni Santi Di Bottega Attualmente le ditte incaricate Dopo aver collocato Le pareti divisori interne Sono impegnate Nell'installazione Degli impianti Di condizionamento Di ariazione Elettrici Idrici E dei servizi igienici Mentre all'esterno Sono già stati fissati I montanti Che sosterranno le vetrate Il prossimo passo Sarà il reperimento Di impianti audio e luci Per cercare di portare A termine Quanto prima Questa importante opera pubblica Da una capienza complessiva Di circa 340 posti Spazio ora Le vostre segnalazioni Che come sempre Vi ricordo Di inviarci Al nostro numero Whatsapp Quello che vedete In sovraimpressione Un telespettatore Ci ha segnalato All'ingresso Di Cattabrighe Lungo strada Fornace Mancini La presenza A terra Di due cartelli Segnaletici Che indicano L'ingresso E l'uscita Dal paese Una sistemazione Che si trova In ritardo Di diversi mesi Questa mattina Sulle spiagge Di Baia Flaminia Si è svolto Il rilascio Nel mare adriatico Della tartaruga Giunone Un gesto Volto alla sensibilità Ambientale Grazie anche Al coinvolgimento Di diversi bambini È stato un momento Sicuramente particolare Per tutti Quei bambini Presenti oggi Nella spiaggia Di Baia Flaminia Che hanno vissuto Il rilascio In mare Di Giunone La tartaruga Marina Recuperata Lo scorso 28 gennaio Nelle acque Di Fano Una mattinata Arricchita Da attività Di educazione Ambientale Con il focus Puntato Sulle conseguenze Provocate Dall'inquinamento Del mare Adriatico Giornata Propedeutica Organizzata Da Comune Di Pesaro E Fondazione Cetacea Di Riccione Realtà Che si occupa Personalmente Del recupero Di tartarughe marine Sia in Emilia Romagna Che nelle Marche Prestando supporto Anche al Veneto Dopo che in questi mesi È stata medicata E curata La tartaruga Giunone Di tre anni E dal peso Di circa due chili È stata rilasciata Attorno alle 11.30 Dal club nautico Di Pesaro L'accompagnamento È avvenuto a largo Ben oltre gli scogli E le reti da pesca Che rappresentano Un pericolo Per il rettile Fondazione Cetacea Ormai Per il quarto anno Sta realizzando Qui a Pesaro La caletta Per la riabilitazione Delle tartarughe marine È un evento importante Perché tra l'altro È l'unica struttura Del genere Presente in Italia Ed è una struttura Importante Perché al momento In cui le tartarughe Vengono curate Il dubbio è sempre Poi il mare Ce la farà Qui Praticamente Abbiamo un'anteprima Del comportamento Dell'animale Quando sarà in mare E sotto controllo E quindi Che può evitare Una serie di problemi È un evento Importantissimo Questo che realizziamo A Pesaro Ed è un evento Che tutti gli anni Trova molto riscontro Sia da parte Dei volontari Che dall'amministrazione Comunale Noi stiamo Noi stiamo cercando Di mettere In piedi Un tavolo Di tutti i portatori Di interesse Che Gravitano In quest'area Cioè Fare un parco È indispensabile È indispensabile Perché lo richiede La comunità europea Perché lo richiede La salute del mare Soprattutto Ma non va fatto il parco Contro Ma va fatto il parco Con l'accordo Di tutti E trovando Delle soluzioni Che non vadano Contro gli interessi Di nessuno Non è solo questo Il percorso Che come amministrazione Da quest'anno Inizieremo Quindi tutte le attività Di disseminazione Di divulgazione Che per il nostro mare Qui a Pesaro E particolarmente In questa zona Hanno un certo valore Appunto Di attenzione Ma anche di valorizzazione Ma anche perché Grazie a un evento Che hanno organizzato Circa due settimane fa Sarà un supporto Quello di Fondazione Cetacea Che sia affiancata All'Egambiente E anche all'Enteparco San Bartolo Per Far comprendere L'importanza Del riconoscimento Di un'area marina Protetta Nel nostro territorio È un percorso In questo momento storico Non solo Di carattere culturale Come dicevo prima E divulgativo E di disseminazione Di cosa può essere Il valore del mare Dell'Adriatico Della sua biodiversità Della sua vita Insomma Della sua essenza Ma anche Da un punto di vista Giuridico normativo E quindi È una task force Diciamo Di portatori Di interesse qualificati E con la parte istituzionale Che è sicuramente In prima linea Per questo percorso E si terrà Dal 5 al 13 agosto 2023 Nel cuore Del centro storico La 34esima edizione Della Gavardiana Storica manifestazione D'arte All'aperto Proposta ininterrottamente Dal 1963 Al 1988 E tornata a vivere Nel 2015 La rassegna 2023 Vedrà l'esposizione Delle opere Di 68 artisti Tra pittura Illustrazione Scultura Ceramica E fotografia E si snoderà Tra via Gavardini Palazzo Gradari E Palazzo Mazzolari Musca E a Gradara Dal 6 al 9 di agosto Andranno in scena Quattro serate Magiche Dal tramonto Alla mezzanotte Tra allestimenti Scenografici Musica dal vivo Danza Spettacoli E performance Itineranti Tutto pronto Per festeggiare Una straordinaria Decima edizione Di The Magic Castle Con artisti internazionali E spettacoli straordinari E sabato 5 agosto Inserito nel Programma Di Miral Teatro d'Estate Sarà portato Sul palco Dell'Anfiteatro Del Miralfiore Lo spettacolo Apologia di Socrate Opera che vedrà L'interpretazione Di Enrico Loverso E la regia Di Alessandra Pizzi Musica a corte Prosegue anche nel mese Di agosto Con gli ultimi Quattro appuntamenti Del cartellone La rassegna estiva Organizzata dal lente Concerti di Pesaro Vedrà alternarsi Alcuni dei migliori Studenti del Conservatorio Rossini Ospitati come di consueto Nelle cortile Di Palazzo Mosca Sede dei musei civici Cittadini Appuntamenti in agenda Per il 5, 10, 18 E 30 agosto E l'arena BCC Di Fano Si appresta ad accogliere Le pillole di comicità Di Farò Follia Pillole di comicità Dopo la serata Dedicata a Morricone Si ride Ci si diverte Col dialetto Perché il dialetto È parte della cultura Pregnante della nostra società Gruppo Pesarese Farò Follie Noi facciamo ridere Sarà 10 anni Che facciamo ridere Spansare da ridere Qui poi All'arena BCC Siamo di casa Facciamo divertire la gente Quindi i fanesi Si divertono anche Con i pesaresi Almeno finora È sempre stato così Noi siamo venuti Alla vostra arena BCC Anche negli anni Ante Covid Perché ormai gli eventi Li consideriamo così Abbiamo avuto successo Successo di pubblico E soddisfazione nostra Speriamo ovviamente Di rinnovare tutto questo Anche il 4 agosto Con i nostri sketch Ecco perché pillole Di comicità Allora qualche pillola Ma gli argomenti trattati Quali saranno? Gli argomenti Sono quelli vari Gli argomenti Ma è fatica A dire adesso Cosa andiamo a fare Però Trattano sempre Delle cose Un pochettino Ambigue Un pochino Sofraintesi Sottintesi Sono queste le cose Che noi andremo A fare Insomma E la Vis Pesaro Ha raggiunto L'accordo Per l'acquisto Temporaneo Di un anno Per il portiere Filippo Neri Il giovane 2002 Cresciuto calcisticamente Nel Livorno Dove ha collezionato Due presenze In Serie B E nove In Lega Pro Per poi approdare Al Venezia Dopo un breve periodo Alla Feralpi Salò Ha concluso La scorsa stagione Nella prima squadra Della società Lagunare E con la notizia sportiva Vi ringrazio Per averci seguito Però prima di salutarci Vi ripropongo Gli appuntamenti di serata Questa sera infatti Alle ore 20 Andrà in scena Il Castello Magico Lo speciale Che abbiamo realizzato A Tavuglia E questa sera Alle ore 21 e 20 Potrete seguire Il 51esimo Festival Gallo d'Oro La seconda serata E infine Vi ricordo anche L'appuntamento Come di consueto Per quanto riguarda La rassegna stampa Dei quotidiani Della provincia Di Pesaro Urbino Ore 7 e 20 In diretta Con Buongiorno Rossini Sia sulla pagina Facebook Che sul canale 80 Ed ora è davvero tutto Io vi ringrazio Per averci seguito Vi auguro Un buon proseguimento Di serata Per averci seguito Per averci seguito